Ciao ragazzi, finalmente l'attesa è finita, si ritorna a giocare, purtroppo ancora senza pubblico. Speriamo che in un futuro non troppo prossimo la regione Lombardia apra a una piccola percentuale di pubblico la possibilità di venire a vederci. Voi intanto fate l'abbonamento e mi raccomando nel Fidelity Pack ci sarà l'abbonamento a Eleven Sports da cui potrete seguirci anche da casa nell'attesa di rivederci al palazzetto. Ciao!